I consiglieri di minoranza del comune di Castellabate, Alessandro Lo Schiavo, Marco Rizzo, Caterina Di Biasi e Luigi Maurano avrebbero riscontrato delle regolarità amministrative, poiché il comune non avrebbe un piano esecutivo di gestione. Il piano mette in evidenza come vengono distribuiti i soldi comunali e che fine fanno le entrate. Per questo motivo la minoranza ha deciso di scrivere al prefetto per risolvere il problema. Per essere chiari, spiega il consigliere Luigi Maurano in un post sul suo profilo Facebook, il PEG, piano esecutivo di gestione, ci dice analiticamente come vengono distribuiti i soldi e che fine fanno le entrate in maniera chiara e precisa, voce per voce. Non averlo non solo è una grave irregolarità amministrativa, ma anche una mancanza di rispetto verso i cittadini, che hanno il diritto di sapere come vengono gestite le risorse finanziarie dell'ente, i soldi. Al prefetto l'ardo a sentenza, conclude Maurano. Grazie.